tutto a posto è il nuovo singolo di Fabio Poeta eccolo qua in linea con noi Fabio ciao 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 cara tutto a posto tutto a posto tutto a posto è un tormentone questa risposta ormai è un tormentone ma è giusto che sia così però hai avuto un'idea molto molto originale grazie molto sono contento di essere con voi è una radio molto bella che non avevo ancora avuto il piacere di solcare che bello questo che ci dici ci stai ascoltando da voi come va il tempo com'è lì dalle vostre parti è tutto a posto è tutto a posto anche per noi anche per noi io sono in Sicilia con un caldo incredibile e ci credo ci credo mamma mia mamma mia tu sei di Palermo io sono di Palermo sì e diciamo sono andato a Palermo giro tanto da quando sono nato amo girare amo viaggiare e quindi anche il lavoro spesso mi ha portato fuori però torno sempre a Palermo è la è più forte di me è più forte di me meravigliosa meravigliosa Palermo davvero abbiamo tanto tanto mare tanto ma anche tante cose all'interno molto molto bella anche io sono stato pure dalle due parti però le due parti sono veramente notevoli eh sì ma non abbiamo il mare ma avete altro avete una natura splendida sì è vero è vero è vero anche se eh sai chi abita in una zona non sempre apprezza apprezza le bellezze del posto siamo noi turisti esatto sono esatto esatto io per esempio della Sicilia ho apprezzato eh tantissimo vabbè a parte il mare che a Palermo è splendido come anche nella parte bassa no verso l'Africa è molto bello da quelle parti però a Palermo avete San Vito lo Capo? Palermo abbiamo vicino San Vito lo Capo è bellissimo zone zone veramente veramente belle però sono d'accordo con te il lato africano della Sicilia è veramente bellissimo esatto veramente veramente bello esatto e poi io sono stata tante volte in Sicilia e mi è piaciuta però in primavera perché è davvero un giardino un giardino tutto in fiore volta volta io pure sono stato in primavera dalle parti nostre ed è veramente bello ho apprezzato anche molto il cibo devo dire la verità perché sono un amante del cibo è vero da noi si mangia bene si 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 è vero è vero quindi tutto a posto e quindi è tutto a posto è questo nuovo nuovo singolo che ho realizzato diciamo qualche mese fa in studio di registrazione fa parte di di un album che uscirà a Natale che si chiama Marcia Indietro e questo è il primo estratto era il più estivo diciamo che l'album ha un gusto rock prettamente invernale a parte questo tutto a posto che era molto estivo e quindi abbiamo deciso che fosse il primo singolo lancio e mi auguro che vi piaccia ecco me lo auguro a noi piace moltissima in rotazione qui da noi e e voglio dirlo proprio per etichetta me and new records assolutamente si registrato e mixato a palermo presso il Raxi studio giusto? studio si di di Fabio Castorino ma masterizzato invece alla Energy Mastering di Milano da Claudio Giussani storico diciamo eh masterman che per grandi personaggi come Zucchero, Giorgia, Liga V e stesso quindi è stato un grande onore che abbia messo mani su questo brano e io penso che si senta un tocco particolarmente valido si nel termine del master si assolutamente si spero che abbia un bel suono in radio spero che abbia un bel suono a noi piace Fabio a noi piace me lo vale adesso ti faccio la domanda tipica che ti avranno fatto in tanti perché hai scelto come nome d'arte poeta? Allora sì è vero me l'hanno fatto in tanti in realtà Fabio Poeta è il mio nome d'arte da ormai 25 anni io ho iniziato a fare musica molto presto e avevo 23 anni quando è uscito il mio primo album che si chiamava Fondo e ancora ero Fabio Dragotta in realtà a quei tempi poi subito dopo diventai poeta perché? Perché avevo iniziato anche a scrivere a scrivere dei libri di poesie sono stato edito dalla Teltrinelli tra l'altro in quel periodo spessi questo libro leggere vibrazioni e da lì mi si appioppò da solo questo termine poeta che mi piacque molto e quindi anche su Facebook mi registra e appunto parlo di circa 15 anni fa se non di più agli inizi di Facebook come Fabio Poeta e l'ho mantenuto come mio nome d'arte perché mi piace mi piace anche quello che può evocare e quello che può essere il suono stesso tutto qui niente di straordinario ci sarà un tour e quest'estate marcia indietro firmato Fabio Poeta in band eh sì perché la mia band è il mio gioiellino sono Giovanni Militello la batteria Carmelo Antico al basso Gaspare Consiglio alla chitarra elettrica eh di Bella alle altre chitarre elettriche eh con loro farò una una brevissima tournè estiva perché in realtà siamo molto molto presi da da un aspetto pure molto radiofonico c'è molta promozione in radio quindi faremo un po' di date nella nella mia Sicilia una molto bella sarà il Palazzo Reale tra l'altro Palazzo dei Normanni che è una cosa molto prestigiosa da noi viene concesso a pochissime persone quindi sarà un onore per me sarà a fine luglio e poi faremo delle date sparse in giro per le località marine siciliane nelle piazze dei paesi e poi spero piano piano di salire verso le altre parti speriamo ti aspettiamo magari verrai a trovarci perché no? Molto volentieri molto molto volentieri allora tu hai dato eh il hai detto i componenti della della tua band tu sei la voce in in questa band siete tutti musicisti anche tu musicista? Sì io sono io in realtà sono un cantautore nel senso che la band per quanto io amo definire la band la nostra perché ragioniamo e viviamo come bene però in genere il tutto nasce eh io sono un chitarrista nel gruppo chitarrista acustico e voce ma porto in genere il brano lo porto diciamo quasi pronto fra testo e musica e con loro lo diciamo definiamo la parte degli arrangiamenti e anche la parte melodica a volte la giustiamo quindi ecco siamo un ibrido fra quello che è un cantautore puro e quella che è una band quindi è più bello Fabio Poeta e band ecco mi piace. Tra l'altro anche molto energetici sento. Molto energetici molto lei molto rock. C'è molta energia che magari. Giovane di bella la chitarra elettrica che ha ventun anni che porta tanta tanta gioventù e tanta e tanta brillantezza sui tocchi rock quindi ecco questo sì questo sì molto. Bene benissimo abbiamo bisogno di questo di di giovani pieni di energia di entusiasmo che coinvolgono le piazze parliamo del videoclip che racconta la storia di Sara. Sì allora il brano il brano in se stesso è stato scritto pensando proprio ad una un personaggio in in realtà che non esisteva più che altro era una trasposizione femminile di una mia esperienza vissuta al maschile l'avevo creata così e che in realtà ho personificato poi nella persona di Sara Priolo che che è una modella ma anche una grandissima artista e anche speaker di una radio a Palermo di radio in una blogger e tantissime cose Sara e quindi mi è sembrata proprio anche la sua storia quindi ci siamo confrontati ho detto Sara secondo me questa è anche la tua storia non è solo la mia per cui chi meglio di te può interpretarla e Sara che si diretta anche a fare delle delle diciamo comparse delle e anche delle recitazioni vere e proprie nei videoclip musicali mi ha concesso l'onore di essere lei la protagonista e di impersonificare la sua storia e quindi ecco qui la storia di Sara perché tutto apposto alla fine è un viaggio è un cambiamento è la scelta di cambiare vita che Sara Priolo comunque ha fatto veramente quindi coincide con tante cose e cambiare vita cioè lasciare magari quello che è un consueto modo di fare che è quello di rivolgersi subito al mondo del lavoro con quello che offre la società spesso magari trascurando che quanto può essere meraviglioso riuscire a vivere di una propria passione e quindi Sara nel video decide nella storia decide di fare questo di lasciare le comunità e gli agili un lavoro più normale per continuare a intraprendere la strada musicale con la sua bende che poi è la bende di Fabio Poeta e Bende nel video. Quindi un po' la storia di Sara è anche la tua? Sì in realtà è molto la mia e anche la sua molto la sua e anche la mia perché abbiamo vissuto nello stesso periodo di vita io ho 23 anni quando ho vissuto questo tipo di esperienza che se l'ho raccontata oggi a distanza di 20 anni e mentre lei la sta vivendo oggi che ha 23 anni quindi c'è una coincidenza di... Quindi un po' che immedesimi esatto mi immedesimo molto anche se lei è molto bella come chitarrista quindi diciamo fa la sua figura rispetto a me ecco. Vabbè lei è donna tu sei uomo quindi non possiamo fare paragoni? Certo. Non sarebbe possibile e quindi anche tu hai avuto il coraggio e in pratica lo stai dicendo di vivere le tue scelte. Sì ho avuto il coraggio proprio a quell'età è stata dura e stata sosperta perché ho lasciato appunto anche io una situazione di comodo provenivo da una famiglia che tutto sommato stava molto bene io ho tentato la strada dell'ingegneria l'ho conclusa pure però non era la mia strada quindi a quell'età partecipai ad uno dei straordinari concorsi che esistevano in quei tempi di case discografiche e lasciai tutto andai a vivere a Roma e ho mollato tutto per la mia passione quindi da lì ho realizzato poi gli album ho vissuto di musica per tantissimi anni e ho inseguito e non ho mai mollato questo sogno e questa passione e quindi coincide molto con la storia di Sara ecco. Bene ci fa piacere questo messaggio che tu vuoi dare perché sarà sicuramente utile a tanti giovanissimi no a tante persone che a 23 anni fanno un po' il bilancio della propria adolescenza dell'affacciarsi alla vita quindi sarà utile a loro. Me lo auguro perché sognare nella giusta dimensione non trasformando mai il sogno in illusione ecco questo sì ma sognare è realmente una via di uscita per tantissimi stati negativi quindi è assolutamente un messaggio positivo questa canzone deve arrivare e deve riempire spero l'animo di chi ne ha bisogno ecco di chi ne ha bisogno. Vogliamo dare i tuoi contatti Fabio? Sì ho una pagina Facebook Fabio Poeta profilo personale uguale potete trovarmi su Instagram come Fabio Poeta official si diceva io così e sul web anche attraverso diciamo la mia URecords io ormai sono sotto questa etichetta di management quindi anche la mia URecords London la potete trovare c'è il sito su internet e io sarò lì direi che questi sono i miei contatti. Benissimo ti faccio l'ultima domanda poi parliamo in chiusura dell'etichetta che vabbè l'hai già detta la produzione e ne abbiamo parlato parliamo della comunicazione che è di Giovanni Germanelli giusto? L'ufficio stampa l'ultima l'ultima domanda il sogno del cassetto Eh il sogno del cassetto? Ci hai pensato un attimo? Sì ci ho pensato perché è una domanda veramente complessa quando ero ragazzita avrei risposto al lampo oggi direi che il sogno del cassetto è continuare ad essere felice è la cosa più bella Continuare ad essere felice che bello grazie Grazie a te cara Grazie a te per quello che ci hai detto Fabio Sono contento che in realtà io ritengo veramente che la cosa più difficile non lo ritengo solo io lo riterranno in tanti è realmente mantenere più di qualche istante la felicità perché veramente tende a sfuggire con una velocità incredibile perché spesso la incaselliamo in dei delle caselle sbagliate cioè vogliamo dare alla felicità un compito che non è quello di quello che pensiamo legato all'effilmero ma la felicità è veramente un'emozione che vola via Se uno riesce realmente ad afferrarla anche a qualche istante è a fotografarla con la mente e sapere che è quella la direzione per la propria felicità e allora quella è la strada da seguire sicuramente quella è la strada da seguire Benissimo grazie Fabio allora ripetiamo l'etichetta la produzione la comunicazione e questo singolo tutto a posto Allora sì tutto a posto la produzione è coprodotto dalla Roxy Studio produzione e management la mia U Records anche attraverso Umberto Alongi che saluto che è un grandissimo amico che è un grande artista e poi speriamo di sentire tante volte in radio questa canzone Sicuramente sì da noi è rotazione quindi poi avrai il tuo feedback riscontro da noi Va bene Grazie salutami la Sicilia salutami Palermo Saluta via le tue parti che sono bellissime E un tuffo Se vengo ti vengo a trovare Grazie sicuramente Ascolta un tuffo per me nel mare della Sicilia Promesso che il prossimo tuffo penso a te promesso io mantengo sempre le promesse Benissimo grazie Grazie Fabio ciao adesso ascoltiamo il tuo pezzo Grazie ciao Eccolo qua il pezzo di Fabio Poeta si chiama tutto a posto E' molto bello ascoltatelo Ho deciso di partire Ho deciso che il coraggio è la strada da seguire trasformando l'illusione in qualcosa di reale Ale, 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 ale E se ti accorgi che il contesto sta cambiando direzione E che dovrai virare, ale, 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 ale Per evitare di star male, ale, 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 ale Vai tornare anche a cantare, stai tranquilla e tutto a posto E il momento è quello giusto per decidere di andare per ricominciare E trasformando ogni contorno cresce giorno dopo giorno Colorando spazi grigi ripulendo il fondo finché si può Ho deciso di ascoltare quella voce che fa freccia Tra i pensieri e i desideri e non si può ignorare Che ti porta tra le braccia, ti corteccia e ti strapazza Mescolando convinzioni all'emozione di provare Ale, 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 ale Il gusto immenso di cambiare, ale, 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 ale Ma è che ti fa cantare, stai tranquilla e tutto a posto Il momento è quello giusto per decidere di andare per ricominciare Il cambiamento dal profondo, taglionetto ad ogni costo Vita nuova è il suo profumo che mi sa inebriare Un foglia matta che mi spacca non mi lascia un'altra scelta Come un tormentone estivo che ti entra in testa Trasformando il mio contorno Cresce il giorno dopo il giorno Colorando spazi grigi ripulendo il mondo Cresce il giorno dopo il giorno Cresce il giorno dopo il giorno Cresce il giorno dopo il giorno Grazie a tutti